Partiamo dall'ariete. La vostra eccessiva sicurezza potrebbe, anche se non ne avete l'intenzione, portarvi a prevaricare gli amici. In famiglia cercate di stabilire maggiore armonia. Toro, giornata densa di inquietudini. Non fate acquisti troppo costosi o inutili, meglio essere oculati e prudenti. Le tensioni familiari vi convinceranno a dare una svolta significativa e completamente diversa alle situazioni. Gemelli, se esprimerete i vostri obiettivi con scarsa chiarezza, rischieranno di essere poco determinate anche le strategie e alle alleanze che creerete. Vedrete allontanarsi un affare su cui avevate puntato. Cancro, nel lavoro utilizzate il vostro prezioso sesto senso, ma siate anche diffidenti al punto giusto per non finire invischiati in questioni poco chiare. Difendetevi dagli imbrogli. Leone, incontri davvero importanti per la vostra professione, di sicuro troverete la strada giusta da imboccare per il successo. Rimanete con le antenne alzate per intercettare affari che potrebbero farvi gola. La fortuna è con voi. Vergine, rimuginerete continuamente su un torto subito, ma non è forse come andare in giro portandosi sempre un grosso peso sulle spalle? Bilancia, non chiudete la vostra relazione al presentarsi della prima contrarietà. L'amore che vi unisce è sincero e profondo. Godetevi insieme alla vita. Accetterete il consiglio di un collega più anziano anche se all'inizio non vi convinceva affatto. Scorpione, diventerete più essenziali, più profondi, più affascinanti, passionali e magnetici. Sagittario, avrete buone possibilità di consolidare vecchie e nuove relazioni. Saprete cosa costruire per il vostro futuro. Potreste innamorarvi di una persona straniera e magari decidere di trasferirvi in un altro paese. Capricorno, l'amato partner dimostrerà ancora una volta di essere completamente pazzo di voi con i vostri pregi e difetti. Resistete a un acquisto di cui potreste pentirvi. È superfluo e inciderebbe pesantemente sulle finanze. Acquario, il periodo è favorevole per dar vita a iniziative interessanti. Non perdetevi in chiacchiere e puntate alla realizzazione di un desiderio. Pesci, avrete tanta vitalità e voglia di fare. Nel lavoro conquisterete la stima di un superiore che vi coinvolgerà in proposte innovative e molto gratificanti. In amore uscirete dalle nebbie dell'indecisione e finalmente concretizzerete un sogno.